Ho un bel padre, ho le indizie, anche perché hanno bisogno di vincere, è una delle consiglie che non padeffende neanche, oggi sono venuto a facci festa perché hanno vissuto le emozioni proprio che hanno vinto, quindi il pubblico merita tutto, merita sicuramente di vincere, ha bisogno di vincere per 2.000 motivi, resta un pizio di Lammario che nella storia del calcio italiano da quando esistono i tre punti tutte le squadre hanno superato la volta 90 motivi, questo ci porta un pizio di Lammario, ce lo porta sicuramente, resta l'orgoglio di una squadra che tre anni fa è arrivata a 28 punti all'Ariventus nel Campione d'Italia e quest'anno è a 4 punti, resta l'orgoglio di tre record di punti del club costituiti, in crescendo, quindi la squadra è andata costantemente in crescendo, i 5 punti da 86 a 91 non è come un rigeramento da 45 a 50, perché a quelle ruote è difficile fare i rigeramenti di questo vice, quindi ci sono tutte le sensazioni che è chiaramente in questo momento l'orgoglio di questa crescita, di questo gruppo straordinario, di questo pubblico straordinario e il cio di Lammario di essere i primi che arrivano a queste quote e nuvi.